Buonasera, buonasera a voi. Allora, guardate, io mi sono spesso chiesto in questi mesi, in questi ultimi due anni, ma gli ucraini che testa hanno? Cioè, cosa realmente hanno nella zucca gli ucraini? Ma che esseri umani sono questi ucraini? Tra l'altro, se ci avete fatto caso, e questo è evidente, che è soprattutto propaganda occidentale, quando voi sentite le varie interviste, che siano cittadini comuni, ma che siano anche intellettuali ucraini o giornalisti ucraini, oh, non ce n'è uno che non dica esattamente sempre la stessa cosa, e cioè, noi combatteremo fino alla fine, noi non cederemo mai un pezzo del nostro territorio, l'onore è la cosa sacra, noi non permetteremo mai ai russi di schiacciarci. Esattamente così, se ci avete fatto caso. Io non ho mai sentito una madre, un padre ucraino, dire in un'intervista io vorrei che la guerra finisse, non me ne importa nulla di dover cedere una parte del nostro territorio alla Russia, perché la vita è sacra, altro che l'onore, la vita è sacra, è di tutta evidenza che è propaganda, perché è chiaro che esistono, e come ci mancherebbe altro, esistono degli ucraini che la pensano in questa maniera. Poi non c'è una statistica, su questo non ci piove, che non esiste una statistica di quelli che pensano che bisogna morire e far morire i propri figli pur di non cedere a Putin, e quelli che invece ritengono, appunto, come stavo dicendo, che essendo la vita sacra non si può assolutamente far morire i propri figli, ma bisogna anche, come d'altronde ha detto ultimamente il Papa, io ho fatto un video, alzare bandiera bianca e trattare, no? Ora, è però altrettanto evidente che in una buona parte questi ucraini sono veramente degli stolti, o non so come definirli, no? Tra l'altro mi piacerà poi ascoltare i vostri commenti, cosa ne pensate voi, magari pensate l'opposto a quello che penso io, magari siete d'accordo che non bisogna cedere, che bisogna lottare fino alla fine, chi se ne frega se magari muoiono anche i nostri figli intorno a noi, cioè, io non riesco a pensarla in questa maniera. Allora, o io sono single, voglio dire, non devo rendere conto a nessuno, e se voglio buttare nel cesso la mia vita, perché per me non è sacra andare a combattere e combattere fino all'ultima goccia di sangue, ma fallo, chi se ne frega, appunto la vita è tua. Ma se però sei un padre di famiglia, come fai a fare un ragionamento del genere? Io mai riuscirei a fare una cosa simile, cioè, io me ne fregherei altamente del territorio, me ne fregherei altamente di dover cedere, pur di avere la vita salva mia, ma soprattutto dei miei figli. Questo invece, questo invece sembra non sia così, sia più importante, cioè, il braccio di ferro con la Russia, sapendo perfettamente, perché voglio dire, ormai anche loro devono averlo capito che non ce n'è, che la Russia non perderà mai, perché è troppo più potente dell'Ucraina, e che la terza guerra mondiale, se dovesse arrivare, vorrebbe dire in primis il loro sterminio, perché è di tutta evidenza che se ci dovesse essere una terza guerra mondiale, sarebbe una terza guerra mondiale nucleare, e i primi a rimetterci sono quelli più vicini alla Russia, appunto, gli ucraini. Davvero una cosa che mi manda in bestia, il non riuscire a capire questa cosa. Come, che testa hanno questi stolti ucraini? Sono molto curioso di leggere, naturalmente, come sempre, i vostri commenti, la vostra posizione, le vostre idee. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.